Ok ragazzi, ci hanno dato da provare la laminazione di Love Ink e noi l'abbiamo provata. Sì, l'abbiamo provata e dopo tutto quello che l'abbiamo fatto, bella sorpresa, c'è anche questo da provare. No, vuoi provarla? Non è stato difficile trovare qualcuno. No, infatti, quando vuoi provarlo c'è sempre qualcuno che la vuole provare. Io in primis proprio volevo vedere un po' come... ne ho sempre sentito parlare sinceramente, in salone non ce l'abbiamo ancora. Ne avevi provata una, da quello che ho capito questa è la figlia. Sì, questa è la figlia, è andata molto molto avanti, quindi la sensazione che abbiamo avuto proprio anche nell'applicazione di veramente un prodotto smart, molto veloce, si riesce ad applicare veramente in tre passaggi che sono semplicissimi, lo shampoo, l'applicazione del prodotto e uno spray. In un'ora e mezza la cliente entra, esce dal salone e via che si va, soprattutto perché lei aveva un treno da prendere e quindi abbiamo anche battezzato le tempistiche, quindi in un'ora e mezza si è riuscita ad ottenere questo risultato fantastico. Vabbiamo qua ragazzi, facciamo vedere, diamo a Cesare, qualche di Cesare, come dico sempre, però sentiamo le impressioni da chi ce l'ha in testa. Non sapevi che c'è la domanda, io ti faccio la domanda. Esatto, lo sapevo. No, l'impressione è un'impressione di leggerezza, però nello stesso tempo sento la corposità del mio capello, quindi sento veramente che i miei capelli sono rimasti polti. Di solito quando si fanno certi trattamenti senti anche il capello che tende a sentire... Come se fosse un po' svuotato. Esatto, svuotato, ma sento leggerezza e nello stesso tempo corposità, quindi mi è piaciuto. Sì, qua effetto wow, ci hanno detto appunto che la differenza lo farà all'utilizzo dello spray. Sì, che ce l'ho qui, guarda, ho tenuto tutta a contatta di mano. C'è che è quello che è da dare anche alla cliente e tutto il resto. Questo qua è il professionale, quindi è solo da tenere in salone. Però hanno detto che anche se uno non utilizzerà lo spray, poi vogliamo risentirti più avanti, chiaramente si perderà l'effetto specchio, ma questa densità, questa pienezza... La pienezza, la leggerezza mantiene fino a un mese, anche un mese e mezzo. Esatto, e anche e soprattutto non ci sono nodi nei capelli, lei non penso che sia un capello che abbia quella problematica, però in alcune persone è difficile di convivere. Sì, è una professionista, quindi sai esattamente come deve trattare i suoi capelli, la manutenzione, la prevenzione e quant'altro. La cliente a casa, abbiamo visto come le modelle, abbiamo dovuto veramente far capire l'importanza della prevenzione, effettivamente avranno molti meno problemi nella manutenzione a casa, proprio nel mantenimento del servizio. Qualche problematica riscontrata nell'applicazione, tempo esatto, tempo tecnico esatto? No, ma è talmente fluido che è un burro, si distribuisce da solo, è bello, rende il capello subito pettinabile, no, è proprio un trattamento smart, veloce, che si può proporre veramente a qualsiasi tipo di capello, è consigliato anche sul capello molto sottile, proprio per questa sensazione che dichiarava lei, il capello più polposo, più riempito, va veramente a riempire. La sensazione di riempimento in primis, poi questo tipo di lucentezza è spettacolare. Ti faccio girare leggermente in là, no? E non siamo sotto i riflettori. Sì, siamo appunto nell'ombra. Siamo all'ombra. Ecco, l'altra cosa, quante volte hai piastrato? Cioè, perché il tempo è quello. Tu qua cosa fai? Fai uno shampoo? Fai uno shampoo, ne abbiamo fatti due, perché lei aveva un prodotto sui capelli, due, il secondo shampoo l'abbiamo lasciato in posa un minuto, quindi proprio una cosa molto veloce, dopodiché abbiamo tamponato molto bene i capelli, abbiamo applicato la crema, ok, che è un composto di cinque oli, adesso non me li ricordo tutti, sono stanchissimo. No, anche qui ci hanno dato la prova, non è il nostro. Perfetto, ci guardavo adesso. Quindi, sembra un burro, si distribuisce, si scioglie mano a mano che tu lo distribuisci, quindi è proprio quella la sensazione. Dopodiché lasciato in posa dieci minuti, sciacquato abbondantemente, tamponato molto bene, applicato lo spray, ok, in modo uniforme dappertutto, la cosa molto importante è applicarlo in modo uniforme, pettinare bene i capelli, passare alla piega. Una volta stirati i capelli, dopo che è stata fatta la piega, si applica nuovamente sulle ciocche in maniera più grossolana, ma distribuito in maniera omogenea, di nuovo il prodotto si pettina e si passa alla piastra. La piastra va dalle due alle quattro volte, dipende dal tipo di capello. Qui abbiamo lavorato con quattro passate. Per chi volessimo ottenere le informazioni, comprarlo, Love Inc, il prodotto, e informazioni le trova in privato, oppure scrivere, dov'è che è il salone? Mezzotono, a Reggio Emilia. Mezzotono, a Reggio Emilia, dite lei ma è vero, non è vero, così è arrivato, e poi magari tu hai anche delle sensazioni maggiori, dei feedback che nei prossimi giorni saranno più ricchi, questo è il trattamento appena fatto, di solito nel salone ci si sembra perfetti, però noi di questo dovevamo testimoniare. non avere pietà se c'è qualcosa che non va. Fa anche rima, guarda. Ecco, ok, va bene. Sarà fatto. Intanto nel frattempo sei contenta. Molto, moltissimo, per ora sì. Grazie mille ragazzi, grazie a tutti. Alla prossima. Ciao. Alla prossima Grazie a tutti.